Vabbè, se dobbiamo farlo. Bentornati sul canale, oggi siamo qui per la previsione di WWE NSL 2020, un proprio view che come al solito regala grandissime emozioni, anche se dobbiamo ancora vedere. Partiamo dall'inizio Otis contro The Miz. Otis che, tra virgolette, difende la valigetta di Money in the Bank, quindi chi vince sarà il Mr Money in the Bank. Allora, fai da che va avanti da tutta l'estate e siamo ancora qua. Match che ci sarebbe dovuto fare molto prima. Allora, da una parte abbiamo uno dei migliori lottatori in tutta la WWE al microfono. Mi sentite dire uno dei migliori lottatori in WWE al microfono di sempre, che è The Miz, che l'ultima puntata di Raw ha fatto un bellissimo promo. La puntata di Raw Season Premiere. Dall'altra parte abbiamo Otis, un lottatore con evidenti mancanze di carisma. No, ammetti che il carisma è l'unica cosa che ha di lottato, di microfono, di presenza. Nel senso presenza, intendo che è un lottatore che quando lo vedi capisci che è comico. Aroma Reigns, Brock Lesnar, Bobby Leslie, appena li vedi capisci che ti spaccano il culo. Otis, no? Io vorrei tanto, 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 tanto a vedere The Miz ancora come campione e come Mr Money in the Bank, perché se lo merita. Io avevo detto l'anno scorso che The Miz, come quest'anno, sarebbe diventato campione WB o universale. Non lo è, non lo è diventato. Secondo me The Miz deve finire la carriera almeno con un altro titolo, che sia universale o WB. Ce la deve fare, ce la deve fare. Ma, secondo me, la WB punta ancora su, Miss McMahon punta ancora su Otis, motivo per cui, secondo me, vincerà Otis. E, vabbè, andiamo avanti perché, vabbè. Poi, secondo me, c'è Elias contro Jeff Hardy. Elias che è tornato la penultima puntata di Raw, da ritorno, da ritorno dopo quattro mesi, forse anche di più. Ehm, nello stesso. E, allora, qua abbiamo due grandi lottatori, due grandi lottatori, due buoni lottatori. E, la tagliava corta, a Elias una vittoria serve, perché è appena tornato dall'infortunio, Elias ha vinto solo tre titoli 24-7 e basta. Forse anche due basta. Comunque, Jeff Hardy, la sua carriera la conosciamo benissimo. Ehm... Cioè, siamo fermi qua. Elias una vittoria serve, Jeff Hardy, anche se perde un match in più, ormai la sua carriera l'ha fatta, i suoi tre titoli del mondo gli ha vinti, i soliti 8 titoli intermodinitari gli ha vinti. Vabbè, Elias una vittoria serve. Quindi, secondo me, match che va Elias. La fight, tra virgolette, non esiste, praticamente. Gira intorno al concerto, è girata intorno all'intromissione di Elias nel triple threat a Rodi due settimane fa. È la solita interruzione di un concerto di Elias, quindi, vabbè. Andiamo avanti. E adesso entriamo nei tre match clou. Roman Reis, che difende il titolo universale contro Jey Usui nel primo I quit and in SL match della storia della WWE. Quindi, che il PPV sarà brutto o no, e comunque questo PPV sarà storico, perché un I quit and in SL match non si è mai visto. Ehm... Allora, anche qua... Secondo me c'è poco da dire, nel senso che Roman Reis ha già appena avvento il titolo. Ehm... È bello che hanno riproposto la fight e l'hanno portata avanti . E Jey Usui non avvento un avversario così per el flash shit di umiği così. La fight l'ha sempre portata avanti ma c'è troppo, troppo, di disparità di qualsiasi cosa tra Roman Reis e Jey Usui... Carisma lottato, presenza, qualsiasi cosa, background, anche proprio palmares, proprio qualsiasi cosa. Non vedo possibile come a Romariz possa cedere lui, che nella sua vita ha ceduto solo una volta a Daniel Bryan in una puntata di Raw. Bisogna tenere proprio indietro, ancora quando era lo S.H.I.E.D. Quindi è bello, è un bel match, è intelligente perché i Samoani sono molto duri, molto difficili da buttare giù, non si arrendono quasi mai. E quindi è un match molto intelligente questo, però il risultato è ovvio e lampante. Secondo me alla fine di questo match qua però arriverà il nuovo avversario di Romariz. Forse, non lo so, anche perché il prossimo proprio view è solo la V-Series e quindi magari non, magari tengono le cose in stallo, in stand-by. Quindi sicuramente vince Romariz. Ne avanti Bailey che defende il titolo femminile di SmackDown contro Sasha Banks in un initial match. Ok, finalmente ci siamo arrivati all'attesissima faida tra Bailey e Sasha Banks nel mio roster, perché Annex l'abbiamo già vista e ha fatto la storia. Il match è giusto. Sasha Banks fa due initial match di fila e non è cosa da poco, anzi penso sia uno dei pochissimi che ha fatto due initial match nei due proprio view di fila consecutivi. E anche qua la roba è corta da dire. E siamo come, tra virgolette, Lai e Segefardi. A Sasha Banks una vittoria serve. E soprattutto un titolo serve. Perché finché i titoli di coppia ok, ma bisogna vedere Sasha Banks se finalmente riesce a ottenere un regno titolato in singolo che non sia di tre settimane. Bayley ormai sono arci stufo di vederla con il titolo di SmackDown. Sarebbe ora di vederla senza titolo e di vedere Sasha Banks con il titolo. Indi per cui, secondo me questo match lo vincerà Sasha Banks nel, mi sentirei dire, migliore alineas del match della serata, secondo me. Andiamo avanti, main event, o quello che secondo me sarà il main event di Mike Guitar, che definisce il titolo Davido B contro Randy Orton in un NSL match. Allora, qua c'è poco da dire, non poco. Pochissimo. E Randy Orton, allora, Randy Orton ha perso a Samuelsen, ha perso a Payback contro Katie Lee, lasciamo perdere con il MSL, ha perso a Slash of Champions, non vedo perché Deba vince a... A Ro... Eh, a Alineasel, scusate. Non credo che Randy Orton... Allora, è sempre... è bello perché ogni volta, ho detto sempre che Deba vincitare non ce l'avrebbe fatta. È sempre... perché? Perché è sempre strano scommettere contro Randy Orton. Cioè, la cosa bella è che se domani Randy Orton vincesse, nessuno chiamerebbe lo scandalo come se Otis battesse pulito a Roma Reigns. È Randy Orton, quindi, se vince, va bene. Deba McIntyre, nel senso, Deba McIntyre, il suo regno titolato l'ha fatto, è otto mesi che è campione. Anche se lo perdesse, va bene. Però, secondo me, Deba McIntyre non deve perdere contro Randy Orton, deve perdere col prossimo. Non so chi sarà, non credo se sarà The Fiend. Poteva anche essere The Fiend, perché, ripeto, adesso praticamente ci sono due mesi di costruzione, perché a Super Series non c'è costruzione. Cioè, Rocco de Smegno contro NXT. Quindi, secondo me, vincerà Deba McIntyre. E però, TLC, quello che è il prossimo per più dove si difendono i titoli, TLC, dovrebbe, secondo me, Deba McIntyre perdere il titolo. Allora, adesso analizziamo un attimo la card. Tre Linessel Match, come l'edizione del 2016. Mancano evidenti match. Secondo me manca, per esempio, Murphy contro Rollins, che magari potevano fare Murphy contro Rollins contro Dominic. Match fatti a SmackDown, non ho capito perché, l'ultima puntata. Poi, Scenabase, Danny Jax contro Mandy Rose e Dana Brooke, potevano mettere. Potevano mettere Steve Profits contro Robert Roode e Dolph Ziggler. E tutti dicono, match fatti nelle puntate settimanali. Appunto. Non lo dovevano fare nelle puntate settimanali, dovremmo fare in ESL. È in ESL, come l'anno scorso. È una card, un proprio più che ha i match per il titolo. E scuolta, i match nella gabbia. Costruiti. Basta. Secondo me, è stato così. Nella conference room della Danny Jax. Oh, abbiamo fatto i tre match nella gabbia. Finalmente. E gli altri? Gli altri chi? Gli altri match per fare un BVV? Oh no. Quindi, la Gabbia deve impegnarsi nel BVV a tema. È brutto dire. Però ogni volta che c'è un BVV a tema, o si dimentica del tema del BVV, come succede a TLC, oppure fa i match a tema del BVV, LSL, X-Team Rules, TLC, Money in the Bank, Ladder Match, quello che è. E gli altri, niente. E nel senso, i BVV a tema sono quelli che ci devi pensarci di più, perché vabbè, nel senso, Royal Rumble, Summerslam, Money in the Bank, Restorz Men, cioè vengono da solo i BVV. Io non gli devi costruire, cioè nel senso, a parte che la gente li guarda comunque. Qua, nei BVV a tema, che sono di solito, sono quasi sempre BVV a transizione, mi devi invogliare a vedere i BVV. Quindi, secondo me, la BVV deve un attimo... Cioè, sicuramente la card verrà aggiunta, perché non posso fare solo 5 match. Ma secondo me verrà aggiunta solo un match, perché comunque ci sono 3 linee, il match, e saranno lunghi. Soprattutto l'equity match sarà molto lungo, sarà oltre i 30 minuti, secondo me. Comunque, queste sono le mie previsioni per l'ANNSL 2020, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo overview, il match che vi interessa di più. Se vedrete l'ANNSL, pagina Facebook, profilo Instagram, iscrivetevi al canale. Ci vediamo a una prossima puntata con gli Silent Boyz che vanno a vedere i Gironi Infernali. 3, 2, 1, BVV. We got, we got, we got the power We got, we got, we got the power